In Versilia sono già 1.124 le persone che hanno scelto, all'atto della richiesta o rinnovo della carta d'identità, di diventare donatori di organi e tessuti. Oltre 126.000 in Toscana, dove la manifestazione di consenso è altissima. Tre i comuni in Versilia che hanno già iniziato il percorso con ottimi risultati. Camaiore con 894 dichiarazioni di volontà, Seravezza con 224 e Fortele Marmi con 6. Anche Pietrasanta da oggi aderisce al protocollo Una Scelta in Comune. Il progetto è frutto del lavoro della maggioranza e dell'opposizione consigliare. Consiste nella possibilità di recarsi all'anagrafe e al momento del rilascio della nuova carta d'identità, ma anche della prima carta d'identità, di poter esprimere il proprio consenso alla donazione. Ovvero il responsabile o l'addetto all'anagrafe farà proprio questa domanda. E noi dovremmo rispondere naturalmente in scienza e coscienza, cioè quello che il cuore ci detta, che spero sia sempre di una donazione. La Versilia è sempre stata una terra di donazioni. C'è un associazionismo estremamente attivo. L'Aido ha sempre lavorato molto bene. E anche nel nostro ospedale c'è un personale sanitario che crede veramente che la donazione sia la pietra miliare per poi eseguire un trapianto. Senza la donazione non è possibile fare il trapianto. L'importanza fondamentale è questa. Attualmente il 7-8% di tutta la popolazione italiana ha una disfunzione renale. 2200 pazienti sono in dialisi in Toscana, 150 soltanto in Versilia, tra cui anche ventenni. Così ha spiegato Vincenzo Panichi, responsabile area medica dell'ospedale Versilia. Il 90% dei versilesi dà il consenso alla donazione. Dall'ospedale Versiliese sono partite 80 donazioni di fegato, l'ultima alcuni giorni fa, destinata ad una bambina di Roma. Questi pazienti sperano di poter arrivare al trapianto di rene perché il trapianto di rene cambia drasticamente la loro qualità della vita da 100 punti di vista.